GF VIP, Matilde Brandi esce allo scoperto con il fidanzato, nel momento più buio sei arrivato tu. È tornato a splendere il sereno nel cuore di un ex protagonista della quinta edizione del GF VIP. Matilde Brandi, celebre ballerina di tanti programmi Rai e Mediaset, si era separata dal compagno. Il commercialista Marco Costantini, papà delle gemelle Aurora e Sofia nel 2020. Poco dopo la sua partecipazione al reality show. Stando a quanto trappelato dalla Brandi nel corso di alcune interviste, sembrerebbe che l'ex compagno avesse intrecciato una relazione con un'altra donna quando ancora stava nella casa del GF VIP. Una rottura dolorosa, come spesso l'ha definita l'ex VIP-ona, arrivata come un fulmini a ciel sereno e dalla quale ha fatto fatica a riprendersi. Ora però è arrivato il momento di voltare pagina. Accanto a Matilde c'è un nuovo amore. Un uomo che le ha ridato fiducia e speranza. E di qualche ora fa la romantica dedica social con la quale ha ufficializzato la nuova relazione. Grazie. 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 Grazie.